ariete siete giunti quasi a metà strada approfittate della giornata di oggi per fermarvi valutare i progressi fatti e definire la vostra prossima tappa toro potreste risolvere un contenzioso senza ricorrere all'arbitraggio di un estraneo vi basterà usare il buon senso ed essere ragionevoli gemelli la vostra giornata sarà più complicata del previsto oggi in particolare se nelle vostre vicende personali avranno un ruolo rilevante dei rappresentanti dell'altro sesso cancro concentratevi su una cosa alla volta e per tenere a bada la noia inventatevi un modo nuovo per affrontare l'attività di routine leone non siete obbligati a rispettare alla lettera certe procedure ma nei momenti di difficoltà fareste bene a ricorrere a metodi codificati e ampiamente sperimentati vergine potreste essere in disaccordo con un collega su un paio di questioni fondamentali oggi non deve essere una ragione per smettere di lavorare insieme bilancia dovrete affrontare molto presto un periodo di cambiamento di adattamento cercate di capire cosa ci si aspetta da voi in certi ambiti scorpione i vostri superiori sono pronti a soddisfare le vostre richieste ma non possono indovinarle dovrete essere chiari e diretti nell'esprimerle sagittario nella vostra vita sta per verificarsi un cambiamento sarà più facile affrontarlo se vi derete da fare per risolvere certe vostre questioni personali ancora in sospeso capricorno le situazioni che più vi incuriosiscono e vi affascinano possono presentare però un alto grado di rischio siate cauti acquario un po di mondanità non potrebbe che giovarvi oggi pensateci bene prima di rifiutare un invito pesci attenzione a non agire in modo troppo frenetico e scoordinato realizzerete qualcosa di concreto solo se sarete disciplinati